su roberto 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 coglione con calmo con calmo Non vedo un cazzo Vedo un torco balenoso Oh cazzo Roberto Velocemente risulta che c'è un amico Che fa le magie Quali magie Io a massimo le faccio io le magie Le vuoi vedere Adesso scomparisco Mi è andata meglio l'altra volta Vabbè allora Sciro spostati un attimo Allora ti risulta che c'è un amico Che sa fare i cloni Le magie per clonare Sì sì lo conosco Ah e dimmi dov'è E che cazzo ne so E quello si sposta A volte sta in Sudafrica A volte sta in Gina A volte sta sto cazzo in culo Eeeh Dove possiamo trovarlo Dappertutto Minchia Vado a sicuro che sta dentro sta scatola Non c'è un cazzo qua dentro E te l'ho detto Non è detto che sta per forzarla Vabbè tu mi sai dire almeno dove abita E sì c'è una casa Eh no ecco il cazzo Secondo te E perché io ce l'ho la casa No tu abiti dentro una casa Però che è abbandonata Vabbè comunque Abita in un appartamento Si ok ma dove si trova questo appartamento E l'appartamento si trova Roberto E' morto No è svenuto Madò era più bello se moriva Un appartamento Dove cazzo lo vado a trovare Roberto svegliatemi Sai dire a me il nome No no questo è proprio andato E' partito No no lo so il nome Ah ok stavo scherzando E' tipo Gesù Questo resuscita Si chiama Piero E dove abita E' un appartamento E dove sta l'appartamento Dentro un palazzo Cognome Piero 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 No solo un Piero Piero e basta Vabbè andiamo a trovare sto Piero Vabbè mi sono rotto le palle Di parlare con te Sì nel fr... Mi scusi signore Stiamo cercando un tizio Che si chiama Piero Piero Anzi un Piero Piero sono io Piero Ah come ti chiami? Piero Cognome? Piero E come ti chiami con il nome completo? Piero Quindi tu sei Piero Quello che fa le magie Sì facevo delle magie bellissime In che senso facevi? Oh dimmi che le fai ancora Eh non mi ricordo più Tanto bene Cioè mi sono dimenticato parecchie cose No tu mi devi dire subito Ma subito come si fa a mandare Ehm Questo Nel mondo dei cloni Me lo devi mandare là Sì ma se lo mando lì Non può uscire più Merda Tu mi stai dicendo che me la sta rinchiuso là dentro Cazzo è me la Allora Allora C'è un modo Dai ti prego dimmi che c'è un modo Sì Ovvero quale Se tu non sei un clone Puoi uscire tranquillamente Ma allora sti cazzi Mandami questo nel mondo dei cloni Sì ma è sicuro Sì Vida di me è sicuro Non sentirei niente Ok speriamo Fatto Io lo vedo che sta ancora qua Adesso non è più qua Eh quindi sta nel mondo dei cloni Sì Ok giro sti cazzi Io non lo aspetta Andiamoci a fare una pizza Oddio dove cazzo so Oddio Oddio È pieno di Peppi È pieno di Peppi Oddio Uno due tre Tre Peppi Madonna 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 Mi scusi dove posso trovare le mele gialle Ehm Questo è il reparto Peppi Non li sono gli altri reparti Vabbè sti cazzi reparto Ma perché stiamo al supermercato Madonna Dove cazzo lo vado a pigliare Ma qui No vabbè No vabbè Non ci credo E quindi avete capito Wow È incredibile Noi possiamo andare nel mondo degli esseri umani Invece di non essere cloni No voi siete cloni I cloni rimangono qua E non fanno un cazzo Ah ok Oh Quello è un clone Che ci fa quel Peppi clone qua Ma in teoria Peppe e cloni Non possono venire qua Mela sono io Sono Peppe Quello originale Proprio sono Peppe Medincina Minchia Proprio originale Vabbè Medin Napoli Ehm Mela Dobbiamo andare nel mondo normale Ehm Scusatemi Mela Mela 56 E Mela 58 Andatemene Che cazzo vuoi Niente Sono venuto a pigliarti Tu prima mi spedisci qua Mi fai rimanere un casino di tempo Peppe dice mi viene a pigliare Io col cazzo che ritorno Peppe sto posto è bellissimo Sono tutti uguali a me Quindi sono le loro paure So cosa gli piace So cosa non gli piace Sta la pizza gratis Sta la pizza gratis Minchia ne voglio una No Perché È riservata solo ai cloni Ma vabbè Che palle Perché tu la vuoi mangiare Perché ormai io sono diventato Il re dei cloni Mela Minchia che crinciata Cosa No niente Ho detto che pecoronata Che cosa Ho detto la peperonata Ne voglio una No Qua stanno solo pizze Mela di prega Ascolta Dobbiamo tornare al mondo normale Sta succedendo la guerra mondiale In che senso Putin ha fatto un casino No Non è quello Praticamente ci sta Arturo Ci sta Uvo Ci sta tutti quanti Arturo Cazzo sta succedendo Ma che è La vendetta di Gesù Eh Diciamo E cosa vogliono Niente Allora in pratica Io quell'altra volta Mi sono sbagliato Il clone è rimasto Nel mondo normale A te ti ho spedito qua Minchia La faccia del coglione Che sei E adesso Sta un problema Hanno ammazzato il clone tuo Quindi credono Che hanno ammazzato te E quindi Sti cazzi Dobbiamo tornare là Dobbiamo vendicarci Mela Quelli a 30 Ci faranno il culo No Io non me ne vado da qua Questo posto è troppo bello Ti prego Ti prego Ti regalo tutte le pizze Che voglio Ma sti cazzi Qua la pizza è gratis E te la puoi mangiare Quando ne vuoi Mela ti prego Dobbiamo andare Ha detto Uva Che sia un deficiente No Questo non l'ho accetto Peppe andiamo Torniamo nel mondo normale Si vai Mela No Uva che si prende Tutta sta confidenza A noi Adesso vado lì Apro il culo a metà Mela Quella c'è C'è la metà Glielo faccio a quattro Tipo una capricciosa Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti